Cosa pensi di roping in Italia? Mi piace, mi piace che stanno cercando di iniziare questo qui e lavorando molto difficile da riuscire a competire. Qual è la differenza di roping in Italia e in Texas? In Texas è sicuramente molto più difficile, ma ci sono anche più competenze, quindi ci sono più difficili. Qui ci sono persone che stanno iniziando, ma posso vedere che c'è un po' di drive per riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Ok, e mi piace la riuscire? Oh, mi piace questa idea. Abbiamo iniziato qualche più in America, tutte le donne competenze come questa. Ci sono state riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. A volte è molto intimidante, a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire aiuti o aiuti aiuti. Quindi qui, in cui è riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Sì. Tu sei il campionato di Gatai. Cosa pensi di Gatai in Italia? Come si è un campionato di Gatai in Italia? Inoltre, c'è molta riuscire per riuscire a riuscire. Vedo un po' di riuscire per riuscire, ma se ci stiamo a riuscire a riuscire, ci sarà molto più migliore. e la più gente che inizia a Gatai, la più competizione ci sarà. E se compiti con il migliore, tu sarai il migliore. Allora, Clayland Ranch TV, Jamie Parvin, Beppe Tassar.